Duro attacco del consigliere Marco Casucci della Lega che in una interrogazione ha chiesto alla Regione di occuparsi di reperire il pezzo guasto della nuova PET-TAC del San Donato in dotazione dal gennaio 2021 e che risulta guasta dal 25 ottobre. Sicuramente manca un pezzo che è difficilmente trovabile sul mercato ma non possiamo neppure accettare rimanendo in silenzio che si formino delle code, che ci siano dei pazienti che attendano. Questo è accettabile e noi lo diciamo chiaramente perché dobbiamo far sì che il nostro San Donato possa essere sempre veramente un grande ospedale, un ospedale capace di dare risposte al territorio e noi terremo sempre alta la guardia chiedendo che si intervenga per sanare il prima possibile questa anomalia. Dall'ASL secca la risposta. Il pezzo è stato subito ordinato e arriverà lunedì prossimo 14 novembre quando sarà sostituito e la macchina rientrerà in funzione. Tutti i pazienti, prosegue la nota dell'ASL, sono stati informati e saranno recuperati nei prossimi giorni. I pazienti più urgenti invece, come gli oncologici, sono stati indirizzati all'ASL ospedaliere universitaria di Siena grazie ad un accordo diretto con il direttore di medicina nucleare delle scotte.